Stop alla pesca abusiva nelle coste Iblee. Ieri mattina l'equipaggio della Capitaneria di Porto, imbarcato sul batello pneumatico GC A07 nel corso di una programmata attività di pattugliamento lungo il litorale Iblee, ha nuovamente scoperto e sequestrato, così come già avvenuto appena una settimana fa, numerose reti da pesca che erano state calate all'interno del porto commerciale di Pozzallo. I controlli effettuati questa volta hanno consentito di recuperare e sequestrare altri 450 metri di rete che erano state calate abusivamente in ambito portuale. Ritenute potenzialmente pericolose sia per la sicurezza della navigazione delle navi in transito che per le operazioni di ormeggio alle banchine. Sono in corso accertamenti per risalire ai trasgressori e ai proprietari degli attrezzi in questione che esseri intracciati verranno sanzionati con un verbale amministrativo che può variare dalle 3 alle 6 mila euro a seconda che si tratti di pescatori sportivi o professionisti. L'operazione di ieri si inquadra nella pianificata campagna di prevenzione, controllo e repressione condotta sull'intera filiera ittica dai militari della capiteria di porto di Pozzallo che quotidianamente pattugliano sia via mare che via terra tutto il litorale ibleo al fine di scongiurare la pesca abusiva, la cattura di specie sottomisura, l'uso di attrezzi da pesca non conformi alle normative nazionali e comunitarie vigenti, nonché l'attività di pesca effettuata in zone o tempi vietati.